Buongiorno amici e ben ritrovati. Abbiamo diversi casi di cui occuparci oggi, in particolare due. Il caso del bambino che il 19 di dicembre è stato trovato in condizioni molto gravi a 20 miglia e su cui si sta indagando nei confronti di ignoti, ma su cui ci sono anche veramente un sacco di cose che non tornano. Sapete che la nonna del bimbo che convive con il compagno, che chiaramente non è il nonno paterno del bambino, ha segnalato la presenza del bimbo in seguito a un investimento, lunedì scorso, sostenendo che fosse stato investito da un'auto pirata, mentre si trovava nel giardino di casa. Il problema è che il bimbo esce di casa, a detta della madre, senza scarpe e in condizioni abbastanza anomali. Un bimbo di sei anni, per quanto sia attivo e sicuramente vivace, difficilmente si allontana dall'abitazione senza indossare le scarpe, almeno questo dice la madre. La cosa ancora più anomala è che un testimone, un vicino di casa, vede il bimbo effettivamente presente nel cortile, in un'area peraltro in cui difficilmente poteva essere investito, perché all'interno comunque del cortile, dietro peraltro un'area in cui vengono parcheggiati dei motorini, seduto con un'area abbastanza arrabbiata. Dopodiché lo rivede in compagnia del compagno della nonna paterna, che appunto si qualifica come nonno del bambino, anche se non lo è, e di conseguenza questo vicino di casa si allontana pensando che il bambino stesse al sicuro. Dopodiché la nonna che fa, prende il bimbo, a sua dire, trovato per strada, insomma agonizzante, e anziché portarlo immediatamente al pronto soccorso, lo porta prima dal padre, quindi fa circa 3 km per portarlo al centro di Ventimiglia, dove il padre del bimbo, che è separato dalla madre, ha un'attività commerciale. Dopodiché il padre si rende immediatamente conto che la situazione è gravissima, e viene allertato l'ele soccorso e il bambino viene portato d'urgenza all'ospedale Gaslini, chiaramente specializzato proprio per questo tipo di problematiche, è ricoverato in prognosi riservata, peraltro adesso è in coma farmacologico perché è stato trovato gravemente ferito. E proprio la tipologia di lesioni che effettivamente sono state riscontrate sul bambino, e che apprendiamo perché il padre le ha puntualmente descritte in una recente intervista, riguardano prevalentemente la cassa toracica e la parte sia anteriore che posteriore. lesioni bilaterali a livello dei polmoni, la milza probabilmente che sarà asportata perché in condizioni pessime, quindi sono tutta una serie di traumi che però, devo dirvi sinceramente, mi paiono un po' anomali per essere frutto di un investimento, ragion per cui bisognerà capire effettivamente la natura e la genesi di tali traumi. Nel frattempo il padre ha più volte sollecitato chi avrebbe investito il bambino a costituirsi. Io però ho qualche dubbio su questo investimento, non vi nascondo che ce l'ho, è anche abbastanza puntuale sotto questo profilo. La mamma del bimbo dal canto suo sostiene di non aver ancora parlato con l'ex suocera, con la nonna paterna del bimbo, e chiaramente dall'intervista ha lasciato sparire una certa tensione tra le due famiglie, su cui si intuisce non corra proprio una situazione di grande serenità. Fatto sta che ora il bimbo chiaramente non è in grado di riferire, ma anche prima di entrare in coma avrebbe riferito alla mamma di non ricordare quello che era successo. A detta della mamma però questo tipo di atteggiamento il bimbo ce l'ha quando non vuole dire qualcosa, quando non vuole raccontare qualcosa. Ora è indubbio che qualcosa non torni, che la dinamica descritta dalla nonna paterna sia alquanto improbabile sotto diversi profili, che la modalità con cui ha deciso di soccorrere il bambino, cioè anziché portarlo immediatamente al pronto soccorso, portarlo prima dal padre che a sua volta poi ha allertato i soccorsi, è abbastanza anomala. E quindi mi aspetto che effettivamente la procura approfondisca tutta la vicenda, perché potrebbe esserci ben altro dietro appunto questa condizione di questo bimbo che in questo momento lotta tra la vita e la morte, ed è in condizioni comunque, anche se non considerate disperate, certamente molto serie e rischia anche di perdere la milza e anche magari la funzionalità di certe sue parti corporee. Quindi indubbiamente è una situazione molto grave, ma ripeto, la testimonianza del vicino di casa mi lascia ampiamente intravedere uno scenario molto diverso da quello che è stato raccontato. Ci auguriamo tutti per certi versi di sbagliarci, perché sarebbe davvero terribile, ma in considerazione di quello che abbiamo visto negli ultimi anni non possiamo escludere che questa sia una storia che in realtà ne nasconde un'altra. Quindi ci aspettiamo tutti gli approfondimenti del caso. L'altra vicenda di cui voglio parlarvi oggi, perché ritengo davvero meriti tutta la nostra attenzione e soprattutto tutta l'attenzione della Procura, riguarda proprio la morte, la strana morte, di Polina Kocelenko, la modella di 35 anni, di origine russa, che si era laureata in criminologia, era una ragazza molto in gamba, molto sportiva, ed era una grandissima appassionata di cani, e quindi faceva la destratrice, ed è morta il 16 aprile 2021 in un canale artificiale, in una roggia, a San Giorgio Lomellina, in provincia di Pavia, in circostanze veramente molto anomale. Inizialmente la Procura aveva maggiormente accreditato l'ipotesi di un incidente, ossia che i cani con cui era Polina quel giorno, due bellissimi cuccioli di pastore tedesco, di cui si sono perse le tracce, peraltro anche cani di valore, insomma, sotto questo aspetto. Secondo loro lei si sarebbe gettata in questo canale, peraltro insomma in pochi centimetri d'acqua, per salvare i cani che a loro volta sarebbero entrati nell'acqua e non sarebbero più riusciti ad uscire. I corpi di questi due cagnolini non si sono mai trovati, c'è anche la possibilità che non siano mai effettivamente giunti in acqua. L'ultimo contatto di Polina con la madre è abbastanza significativo perché era il telefono con la madre poco prima, diciamo, di sparire nell'acqua e aveva avvisato la madre che doveva mettere giù abbastanza anche velocemente perché uno dei cani non tornava. Ora, non tornava perché effettivamente era semplicemente un momento di gioco e quindi il cane si era allontanato volontariamente o non tornava perché qualcuno se ne era appropriato? E questo è un po', credo, il principale nodo da sciogliere in questa fase dell'inchiesta. La buona notizia è che la procura ora procede per omicidio volontario e che chiaramente anche se a carico di gnoti è già un bel passo avanti sotto questo profilo e si stanno facendo una serie di approfondimenti che sono certa potranno fornire importanti indicazioni. Gli abiti anche di Polina danno delle informazioni che possono essere molto interessanti perché a detta della madre che li ha esaminati insieme anche all'avvocato della famiglia darebbero segni comunque compatibili con una collutazione. Quindi è possibile che Polina sia stata effettivamente trattenuta in acqua dopo essere stata aggredita e che alla base di questo brutale omicidio vi sia proprio la volontà di sottrarle questi due cuccioli bellissimi. Si cerca un uomo la cui descrizione è stata fornita un uomo con capelli brizzolati che spesso era stato visto in compagnia di Polina e che era solito parcheggiare all'interno dell'area prossima all'abitazione di Polina è indubbiamente anche questo un aspetto che va un po' capito anche perché quest'uomo che ha più riprese è stato tirato in ballo non si è mai presentato non si è mai fatto avanti non ha mai chiarito effettivamente la sua posizione e indubbiamente per oggi quello che possiamo stabilire con buona certezza è che non si sia trattato di un incidente e che questa ragazza effettivamente meriti la giustizia e l'approfondimento per cui la madre sta lottando ormai da quasi un anno. Quindi continueremo a seguire queste due vicende e indubbiamente quella del bambino è quella che in questo momento sembra essere quella maggiormente attenzionata sotto profilo giudiziario. Se si sia trattato o meno di un incidente ce lo spiegheranno a breve credo i magistrati ma temo che anche qui ci saranno brutte sorprese. A presto!